Benvenuti in questo nuovissimo video per quanto riguarda le pull di Yelan mi raccomando se questo video vi piacerà lasciate un mi piace lasciatelo preventivamente sulla fiducia anche perché sicuramente sono sicura io me lo sento succederà qualcosa di strano lo so ma lo sento lo posso dire però stiamo analizzando la regola dell'attrazione se non sapete cos'è non vi preoccupate niente di niente di che la legge dell'attrazione prevede che se vuoi veramente ottenere qualcosa tu devi immaginarla come se già l'avessi così prendi in giro l'universo che ti dà quella cosa quindi tecnicamente io alla chat ho già detto di averla pullata Yelan non è vero ma dentro di me è così e non solo ho anche delle copie di Yanfei visto che ce l'ho C3 la devo portare non dico C6 ma ci avviciniamo insomma perlomeno alla C4 quindi per la legge dell'attrazione noi Yelan ce l'abbiamo già giusto? che? spiega un attimo sta legge dell'attrazione la legge dell'attrazione non lo sai cos'è? spiega la legge dell'attrazione allora la legge dell'attrazione prevede che tu se vuoi qualcosa ma la vuoi davvero sto groviglio di roba che ti avvicini lentamente come minacciando se tu vuoi qualcosa tecnicamente devi immaginare di averla già e dov'è la mia gin? no perché tu non immagini mai di averla già ma fidati che la immagino tante volte di averla dov'è la mia gin? ma sai per certo di averla? quando la pulli di chiopera dove mi esce? funziona solo se ti chiami Demitat capisci? quella è la legge dello sculo è diverso non è così? ma che devi smontare le mie teorie? che poi non l'ho inventata neanche io non è culo è arte ballo sbatte in faccia la realtà ma scusatemi l'emozione ma dov'è? non c'è più romanticismo di una volta comunque allora pronostico up signori ve lo faccio io pronostico up innanzitutto dobbiamo un attimo vedere il piti perché non mi ha la più paleta non me lo ricordo proprio più dove siamo andati a finire quindi uno due tre quattro cinque sei sei ok 37 38 38 siamo a 38 ah non mica male dai 38 not bad allora come pronostico vi metto? e iniziamo con la primissima multi il pronostico è concluso 3 2 1 via ok madonna da quanto tempo ero un pullavo yanfei 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 vai barbara porta bene è come angel su cookie lei porta sempre bene quindi bless di barbara con tanto di thrilling quindi proprio un plain va bene prima multi andata barbara porta bene vero 3 2 ah selezioniamo pure l'arma così almeno facciamo capire al gioco che vogliamo effettivamente lei si vai 3 2 1 via yanfei leggi dell'attrazione yanfei ce l'ho già ok ok sento che sta arrivando una yanfei sento che sta arrivando una yanfei non è finita è finita è finita è proprio finita adesso funziona benissimo bene con questo arriviamo a 66 esatto esatto la sarda il castoro funziona benissimo vai per il castoro tiri il vagabondo via dai 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 voglio una barbara andiamo con la psicologia inversa oggi le tentiamo tutte come tecniche si va bene ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la possiamo fare molla molla l'altro quattro stelle dai mollalo multi delle armi signori multi delle armi multi fortunata attenzione 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 questo è perchè chiesto barbara giustamente qui devo uscire per forza andiamo a 78 c'è nel senso e dai e e vai ahhh è uscita fermi 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 è uscita è uscita siamo a posto almeno magari due nella stessa multi sono contenta ce l'ho c4 vai ok ok è finita solo quella ahhh e allora e allora e allora se tu può mi esci io ho dovuto comprarla la tua c6 perchè non mi sei mai uscita grazie ti voglio bene noel ti voglio bene siamo a 78 io andrei di singolette onestamente non voglio buttare la multi no andiamo adesso andiamo siamo a 78 giusto? facciamo la 79 no infatti andiamo di singolette 79 cioè vedi 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 dovevo sfregare una multi oddio raga oddio oddio piango oddio raga questo è il quarto piti questo è il quarto piti che vinco oh mio dio oh mio dio sono troppo contenta si 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 così conservo tutto per itto la legge dell'attrazione signori la legge dell'attrazione vedi di vincere anche da me dami madonna no non la voglio la c1 non la voglio raga se devo rischiare mi prendo itto perché devo fare itto c6 quindi no no mi come fai che l'avevo io messo non ho fatto niente alza le mani quindi ci afterai su itto mi faccio una grattatina preventiva no raga conservo ah io stavo anche chiudendo tranquillamente sì perché è una singola ma che bello dare siamo così guardiamocela un po' esatto la legge dell'attrazione ha ha e siamo rimasti con 41.000 primos signori quindi ancora una volta non ho speso un euro madonna sono troppo contenta sono troppo contenta mi viene da piangere sono troppo contenta nello shop chi c'è? niente che devo comprare yeee grande 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 stardust abbiamo pure da prendere un po' di stardust allora prima pull da dio mica da dio quattro multi una singola e abbiamo portato a casa yeelan e niente questo nada secondo ai 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 terzo questa volta ha vinto il 2 signori questa volta ha vinto il 2 vediamo attimino se no non mi riesco a prendere neanche le altre pazienza ciao 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 ciao